sera con questa mezz'ora d'amicizia del linux var vorremmo parlare di docker esistono una serie di cose già interessanti già ben fatte su internet e magari meglio anche di quelle che andrò a dire io voglio presentare docker qui a linux var perché quando si parla di docker c'è tutta un'introduzione che un utente linux un po sgamato può anche andare via facile e capire con quattro parole una roba che per un non tecnico bisogna stargli e fare dei giri parole assurdi docker è nato quattro anni fa è uno strumento per fare più o meno virtualizzazione di processi si basa uno dei mod di docker è build ship run che andiamo a vedere dopo si usa per creare gli ambienti che sono molto efficienti molto isolati l'uno tra l'altro replicabili in una serie di hanno introdotto una serie di innovazioni in generale e poi hanno comunque reso altri strumenti che erano un po più difficili come configuration management un po quasi obsoleti in questa introduzione dirò una serie di cose un po borderline nel senso scorrette che però per semplificare diciamo non sto andando alla nuova troppo per il sottile ok si parte da delle definizioni no che perché è importante prima di capire soprattutto per noi che siamo utenti luce da tanti anni prima di capire come si fa nella pratica capirei che cosa c'è sotto quindi questa è una definizione del sito dell'arch linux sotto l'ho tradotto io comunque l'inux contiene solo una virtualizzazione a livello di sistema operativo per far funzionare diversi sistemi linux isolati su un singolo host non produce una macchina virtuale ma un environment che è dotato di una propria cpu memoria blocchi rete eccetera quindi è un sistema di virtualizzazione però non è come gli altri tipi di virtualizzazioni sono state anche presentate in altre mezz'ore una virtualizzazione che si basa su un hypervisor ma chi fa un po da padrone è il sistema operativo quindi tipicamente una virtualizzazione avrai un sistema isolato e un altro sistema isolato che girano all'interno dello stesso host fisico che governa il tutto di solito un hypervisor quindi stiamo parlando di virtual box apri virtual box 10 macchine virtuali virtual box sopra lo stesso host fisico e virtual box stesso fa è l'hypervisor che tiene in piedi il tutto in questo caso si cerca di virtualizzare però utilizzando non hypervisor ma il kernel stesso per virtualizzare questa è un po' la definizione generica di linux containers tra cui linux containers ci sono n implementazioni tra cui c'è docker che andiamo a vedere dopo questa è una definizione del sito yukipedia che è abbastanza simile docker è una tecnologia che fornisce container promossa da docker inc la società fornisce un livello di astrazione e automazione livello di sistema operativo sia per windows che per linux l'isolamento delle risorse tramite alcune feature del kernel linux come cgroups e namespace e un file system di unione come overlay first su file system di unione perché serve stasera penso se lo vogliamo comunque la parte windows ovviamente non ci interessa che si fotta e la parte di astrazione automazione di sistema operativo l'astrazione a livello di sistema operativo intesa il stesso stretto quindi di kernel cioè per far girare docker serve il kernel dal se non sbaglio tra dieci in poi comunque un kernel relativamente recente se hai un kernel 4 va sicuramente bene e iniziate a dire che a livello del sistema operativo vabbè promossa da docker inc la società va bene ah e poi mi sono indicato qui ho messo lo stemmino il logo del luxvar quando c'è una stellina una una sola un solo logo è una roba facile che dovrebbe venire dovremmo andare a casa quel concetto chiaro stasera poi ci sono i vari livelli due aeree tre aeree quattro aeree fin quando poi cinque aeree vuol dire che una roba che faccio di lavoro quindi magari una persona che già qualche anno che è dietro su sta cosa quindi non è argomento di stasera però giusto per parlarne quindi in brevissimo quello che è stato docker 1.0 quindi appena uscito docker adesso ovviamente c'è dentro un sacco di funzionalità quindi sarebbe io capita così nel senso che una check root che esiste da un milione di anni più o meno avrà la metà la check root un file system di unione un file system di unione vuol dire che io ho tre direttori ne sommo un'altra e ho quattro direttori quindi mergio due direttori in sostanza e un demo e un tool di gestione più o meno questo potrebbe essere docker aggiungendoci magari le funzionalità che sono arrivate con le prime implementazioni di linux containers ovvero dare questa check root a questo programma che faremo partire all'interno di questa check root gli diamo anche un ip gli diamo anche delle risorse limitate di cpu o di ram eccetera eccetera quindi facciamo girare un programma che risiede all'interno di questo cerchio blu quindi magari potrebbe risiedere all'interno di questa bin e quindi vedrà tutto quello che c'è all'interno del cerchio ma non vedrà nulla fuori dal cerchio quindi all'interno di una diretta diciamo la diretta di slash check root in questo caso abbiamo un'alberatura e all'interno di questa alberatura facciamo partire un programma che vede queste cose qua in realtà poi in pratica in docker non è così nel senso che non sappiamo dove risiedono le immagini o meglio possiamo scoprirlo ma non ci interessa non si parla di check root mai quindi sotto il cofano funziona con una check root e proprio da lì voglio partire perché comunque un concetto abbastanza noto chi usa linux da tempo è fondamentalmente una check root però con una serie di aggiunte tipo il file system di unione tipo o altre cose quindi troveremo un tool un demone di gestione che mi fa partire un'immagine che è fondamentalmente un mega tar di questo cerchio blu lo posso distribuire quindi questo questo tar questo lo posso passare a un amico un collega avrà lo stesso ambiente potrà far partire gli stessi binari avere esattamente lo stesso comportamento fermatemi quando c'è qualcosa che non va una cosa che mi preme sempre dire quando si approccia il container è state attenti a fare paragoni con le macchine virtuali che comunque è un processo di virtualizzazione ma la grandissima differenza tra una virtualizzazione classica e una virtualizzazione di docker è che mentre nella virtualizzazione classica noi vogliamo separare delle macchine degli environment e su ogni macchina ci girano n processi uno degli obiettivi di di docker è di virtualizzare e tenere separati un processo da un altro processo faccio un esempio tipicamente lo stack linux apash mysql php si tira su una macchina virtuale con dentro linux ovviamente apash mysql php ripensando un architettore di questo tipo in docker si faranno tre container uno con apash uno con mysql e uno con php questo perché poi li facciamo parlare insieme tramite la rete però si cerca di dividere i singoli componenti questo perché se nello sviluppo del software si va molto verso il concetto di microservizi dove ognuno fa un pezzo piccolo che parla tramite la rete con un altro componente e questi pezzi rimangono intercambiabili se domani il pezzo di apash lo voglio cambiare voglio mettere un altro web server lo cambio quindi in questione le grandi differenze quindi il container non sono macchine virtuali questo cerchete di tenermi proprio lontani al concetto di macchina perché è folviante nell'architettura classica a sinistra abbiamo l'infrastruttura cioè ferro un hypervisor che potrebbe essere virtual box guest os quindi il kernel della macchina virtuale e sopra i binari invece quello che succede all'interno di un container è che hai l'infrastruttura e il tuo ferro lostOS che potrebbe essere il kernel di questa macchina quindi sistema operativo in sesso stretto sopra ci gira docker che poi anche quel quadrato blu sarebbe da scomporre in altri cinque pezzi ma lasciamo perdere e sopra abbiamo i binari le librerie e l'applicazione quindi manca sicuramente in questa virtualizzazione il guest os perché non esiste la virtualizzazione a livello di host os quindi di kernel della macchina e quindi tutti i container che stanno nella figura a destra condividono lo stesso kernel nel bene e nel male nel senso che non devono non pagano il costo di un hypervisor che ci gira in mezzo nel male nel senso che se il kernel è baccato e baccato e per tutti i tre contenere come la usa succede lì capisco conosco la logica e col che mi sono perdo un attimino nell'architettura classica sarà l'hypervisor che si mette a limitare le risorse verso le macchine virtuali ma puoi assegnarle oppure puoi anche non assegnarle e lui le distribuisce poi a livello di cost di sistema operativo poi le insegnano dire chi nell'architettura classica e l'hypervisor che limita le risorse verso la macchina virtuali a parte docker ai funzionità all'interno del kernel quindi namespace e cgroups che sono funzionità del kernel che per i quali dico ti serve un kernel recente per fare gira il docker che servono queste due funzionalità e lì sopra cioè se tu non dici niente si può prendere tutte le risorse della macchina se tu limiti limiti dirai può prendere massimo un giga di ram e a un giga di ram il kernel taglierà taglierà fondamentalmente ammazzerà il container perché sto utilizzando troppa troppa quindi è proprio una funzionità del kernel appena picchi sul limite lui sega il container si adesso in questo questa in questa mezz'ora non non parleremo delle risorse perché lasciamo tutto aperto però sia all'interno dei cgroups tu puoi definire ma è tutta roba che fa in automatico infatti poi docker la sua ha lavorato su molti componenti che erano già pronti ma quello che l'ha fatto vincitore di tutto è rendere tutto molto facile cioè la maggior parte la gente usa docker non sa cosa neanche una ch root quindi quella roba lì la vede in un'immagine come arriva nell'immagine come viene composta è tutto un po fumoso ancora container non sono vm la risposta naturale delle persone quando iniziano a lavorare con docker e tentare di definirlo in termini di macchina virtuale non riesco a contare il numero delle volte dove ho sentito descrivere i docker container come macchina virtuale in regia cioè l'obiettivo è un altro e quindi è come paragonare una moto a una macchina insieme tramite tutti i nuovi però è una roba diversa ancora macchina docker butta il container ributta il container parte l'immagine tutte le definizioni sbagliate soprattutto abilitare il servizio di qualcosa è una roba che non ha senso perché quando parte qualsiasi computer linux parte il kernel il kernel fa partire l'init system quindi fa partire il system di di turno alza le mani a quel punto si stendì tirerà su i vari componenti che sono abilitati al boot tutta questa cosa non esiste perché non esiste l'init in docker tu tirerà su un processo che è già il processo finale tirerà su direttamente a paci tirerà su direttamente in genix tirerà su il tuo applicativo ma non tirerà su non è un init system sotto non è un processo che governa tutti gli altri processi il governatore è docker stesso e via quindi un po al paragone che si fa tra virtual machine e container tra villetta e gli appartamenti no e ci sta gli appartamenti offrono protezione all'esterno ma sono costruiti su infrastruttura condivisa che potrebbe essere il kernel e quindi questo da una serie di vantaggi per esempio il fatto che puoi muoverti da un appartamento all'altro più semplicemente che compri l'appartamento grosso esattamente quanto ti serve non magari compri una villa e quindi stai un po' più largo perché l'acquisto della vita è la stessa cosa tra macchine virtuale e container macchine virtuali spesso sono inutilizzate o comunque sovradimensionate invece i container essendo più piccoli essendo studiati più effimeri che si possono buttar via rifare sono più use e getta insomma il paragone è la regina abbastanza giochiamoci un po' quattro definizioni docker image è l'immagine che fondamentalmente è un tar di un pezzo di un file system più un po' di metadati che posso condividere con chi ho voglia un container è un'immagine che prende vita quindi prendo l'immagine Nginx e la faccio partire in questo momento l'immagine prende vita e quindi diciamo che un programma sta a un processo come un'immagine sta a un container quindi l'immagine una serie di dati buttati lì un container è quella stessa immagine che inizia ad avere un suo indirizzo IP avere una una sola quantità di ram che può utilizzare un po' di cpu prendi vita e fa cosa che deve fare il docker engine è invece chi governa il tutto quindi il demone che governa il tutto che crea che crea ship spedisce grazie e fa girare containers deployabili su fisico su virtuale e poi c'è il registry service che quello pubblico è il docker hub se no si può creare un proprio registro privato che in sostanza è dove metto le immagini è il repository delle immagini quindi io faccio un'immagine devo condividere con ross la dovrò mettere da qualche parte e quindi questo la pusherò in un registry in modo che lui può servirsene ok come si installa si può installare da pitichetta install eccetera eccetera però di solito docker sta galoppando quindi si spesso si si rischia di installare roba già vecchia e quindi una cosa che che consiglio è di andare a prendere direttamente da da sito di docker si scarica questo installatore lui capisce già che distribuzione sta girando e installa direttamente i pacchetti necessari i comandi che si danno solitamente interrogando proprio il binario docker sono pochi cioè run pull start stop update create ps quindi pull tira giù l'immagine run la fa partire start e stop posso farlo fermo una praticamente il run è il run è il create più lo start ok e quindi posso creare senza farlo partire oppure se lo creo lo faccio partire sto facendo run o meglio il run è il pull se non c'è l'immagine più il create più lo start vabbè comunque facciamo partire un qualcosa si il registry come tutti i repository è condiviso sulla rete i comandi sono un po' di più però vabbè kill per ammazzare questo processo perché tutti gli effetti è un processo e quindi possiamo usare docker kill per ammazzarlo exec per debuggare e quindi entrare all'interno di questo container analizzare il file system che c'è dietro quello che era compresso nel tar che poi è un'immagine più altri mille comandi che possono servirci un po' di meno tipo push inutilizzato si quando sto facendo io l'immagine sto proprio la sto collezionando poi la metto nel registry faccio push però è una roba che ci si arriva dopo un po' per esempio qui docker pool nginx voglio tirare giù l'immagine ufficiale di nginx la faccio partire quindi docker run nginx e do il comando nginx-v all'interno dell'immagine nginx scaricata posso dargli un nome posso farlo stop lo start sia riferendomi al nome che ho appena dato oppure a un id quindi proviamo a smanettarci già se riesco a prendere il terminale questo è giustamente grandino questo è giustamente grandino questo guardando là lo so solo io non so che faccio usare il mouse come è chissà come mai chissà come mai ma non c'è tipo un doppio clic qua magico questo? è giusto? si vedi quando ne sai ok docker info ci dice versione altre cose abbastanza alcune interessanti altre un po' meno comunque vediamo già la presenza di questi cgroups che parlavo prima di overlay 2 che è un file system di unione un po' di roba si dice un po' di qua quante cpu quanta ram abbiamo a disposizione eccetera eccetera docker search mi permetterà di cercare l'interno del di default nel docker hub cioè nel nel registri quello pubblico dove tutti possono andrò a cercare apaci facciamo e troverò sia 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 quel che sia ho sbagliato allora di qua ah lì troverò eh anzitutto se le immagini sono eh create in modo automatico o meno in quest'ultima colonna troverò se qualcuno gli ha messo le star quindi se ha messo le stelline ha ha messo il like a questa immagine ok ehm dove non c'è un namespace quindi non c'è qualcosa slash vuol dire che sono immagini ufficiali quindi questa qua sarà le immagini ufficiali di httpd quindi supportata appieno dalla community di apaci invece quest'altre sono immagini che hanno a che fare con apaci ma fatte da persone perfetti sconosciuti diciamo ok prendiamo quella di nginx web server anche qui avremo l'official build nginx qua sopra con il nome nginx star ufficiale non è una build automatica e poi troviamo altri contributi per esempio di chi ha voluto mettere drupal nginx insieme questa persona what buy che avrà fatto una sua build personalissima e l'avrà pushata nel registro pubblico cosa succede che noi andiamo a provare a fare docker pull nginx di default prenderà l'ultima versione ok e quindi si va a scaricare questa immagine che è fatta e composta a strati è composta a strati e quindi scaricherà possiamo vedere che potremmo vedere non lo so come è fatta in questo caso era uno strato solo sembra no erano due strati uno e due perché probabilmente magari è partito da un'immagine già fatta di debian a cui sopra ha montato il pezzo di nginx se io riparto da queste immagini parto dall'immagine di nginx e gli monto sopra un mio file index.html e a questo punto gli strati sono tre se poi arriva ROS che deriva dalla mia immagine gli strati diventano quattro ma in realtà ogni aggiunta a queste immagini da cui siamo partiti diventa uno strato e il file system di unione è quello che tiene insieme il tutto nel senso che fa il merge di questi dieci file system dieci pezzi di alberatura li mette insieme e fa il risultato finale che è quel cerchio blu che abbiamo visto prima quindi per quello che non esiste mai una directory dove entri di tutta la tua alberatura almeno se non vai proprio a cercartela però a livello a livello di quindi a questo punto potremmo fare docker run prendo un terminal interattivo nginx quindi faccio girare l'immagine appena scaricata di nginx con il comando nginx meno meno version che è solo meno v e quindi mi dirà guarda la versione di nginx in questa immagine è nginx 1.13.10 quindi io l'attenzione è spostata molto più su applicativo cioè non so questo nginx come è stato compilato se viene da un pacchetto o non viene da un pacchetto se è compilato statico se è basato su debian su buntu su centos su redact non lo so quindi a me interessa che fa funzionare nginx che è un web server quindi tutto il resto mi interessa sapere la versione magari le funzionalità che ha questo applicativo ma non la parte tra virgolette noiosa sapere se si gira su un file system derivato da debian o derivato da centos se non serve il mio applicativo posso anche ignorarlo quindi a questo punto io posso far partire nginx il problema è che nginx è un web server quindi non vedrò niente in console quindi mi serve di mappare la porta 8080 fuori verso l'80 dentro in modo che quando quando lo faccio partire se lo faccio stare con il comando di default ok si apre un browser faccio 127.001 2.8080 no no l'8080 del mio program perché tenendo proxy qualcosa se mi si secca sull'altra macchina piccolo particolare che non sono sicuro che neanche questo possa funzionare però 168.001 199 e non so se ok ce l'abbiamo ho detto cacchio subito la figuraccia così e abbiamo visto che non abbiamo specificato il comando da far girare perché sta prendendo il comando di default il comando di default è una di quelle cose che ho definito prima come metadati che sono impacchettate all'interno oltre al file system quindi all'alberatura che abbiamo fatto vedere prima nel cerchio nel cerchio blu abbiamo messo dentro anche che comando far partire di default e qui vediamo subito i log che sono che vengono provengono da questa navigazione qua ok e questo è quanto nel senso in questo momento se io vediamo se riesco prendo un altro terminale rifare un altro SSH no SSH 168 199 e prendo questa qua se faccio un ps crepe nginx vedrò che abbiamo effettivamente un nginx che sta girando su questa macchina però se io vado a fare un where is nginx a parte un etc che ho dimenticato in giro chissà per quel motivo non esiste il binario nginx non esiste proprio quindi non esiste all'interno dell'alberatura che andiamo a rivedere dove sono le slide fuori dal cerchio non esiste nginx esiste qua dentro che è un'immagine che sta distribuita messa in qualche parte all'interno where is va a cercare all'interno di bin user bin eccetera eccetera non esiste nginx quindi nei pacchetti di questa macchina non c'è nginx ma la sto facendo girare con questo con questo sistema questo è comodo perché la stessa versione identica può essere passata a un'altra persona ma la stessa versione quella passata siccome utilizzate le sue servizie per il computer sei sicuro che funziona se uno ha un kernel di area su un po' di risultato solo il kernel può cambiare perché in realtà tutto il resto c'è devi solo avere la stessa kernel neanche lo stesso kernel cioè devi avere quelle due funzionalità nel kernel ovviamente se lo passi a chi c'è se io ho docker funzionante e tu hai docker funzionante al 99 virgola funzionerà non c'è non mi viene in mente un motivo perché non deve funzionare se non che devi fare delle opzioni delle devi configurare in modo strano docker ma stai già andando molto oltre adesso sto facendo partire un programma noto che è nginx che di solito poi si usa per come web server ma pensiamo invece di aver fatto noi nginx di aver fatto noi il nostro programma di averlo compilato in c oppure in python un altro facciamo in python e in python dovremmo requirements.txt con dentro tutti correggimi se sbaglio perché non sono pythonista io scriviamo tutte le dipendenze a questo punto poi nelle dipendenze con che python lo facciamo girare compilato da chi con che versione python 2.7 python 3 non lo sappiamo questo nel requirements.txt si può scrivere la versione di python si ok diciamo che allora il site non si scrive perché non è così volendo si può però non è così esatto diciamo che se io avessi in questo momento un programma scritto in python 2.6 esisteva 2.6 insieme di si sarebbe decisamente un casino farlo girare perché nel nostro distribuzioni non c'è più e non è penso neanche installabile scusa difficilmente installabile poi si può far tutto se invece con docker la cosa è molto semplice potremmo prendere eseguibile il python compilato con la versione 2.6 montarci all'interno del nostro programma quindi prendere l'immagine base di python 2.6 aggiungere il nostro codice e distribuire impacchettare il tutto e distribuire il nostro programma con tutte le sue dipendenze python incluso quindi avremmo il nostro programma tutte le dipendenze che magari siamo andati a scrivere nel requirements.txt che è un file specifico di python più quello che serve per interpretare correttamente il tutto e quindi più anche l'interprete questo è un esempio che secondo me regge abbastanza e poi andiamo a distribuire l'applicazione nella sua totalità è come se avessimo creato un mega binario statico compilato e lo andiamo a distribuire perché questo funzionerà ovunque vediamo solo è come una delle slide che magari arriva dopo ma andiamo avanti così la becchiamo subito ok qui la matrice dell'inferno giusto dice come faccio a far funzionare un database su una macchina di sviluppo come faccio a funzionare un database su un single production server e quel stesso database sul portatile di un contributor è una matrice abbastanza complessa e poi se questo non fosse user db ma sarà come faccio a far funzionare il programma in python di riccardo sul pc di ross questa questa matrice viene molto semplificata una andrà a casa sua viene semplificata dai container e la stessa matrice esisteva anche nel mondo dei container veri cioè come faccio a spostare una macchina su un treno come faccio spostare una botte su una nave la soluzione picchia dentro tutto in un container e metti il container sopra il treno sopra la nave sopra quindi impacchettare quello che ci serve trasportare all'interno di un contenitore di una scatola e trasportare la scatola è molto più semplice no? è la stessa cosa con questo programma abbiamo fatto l'esempio di questo programma in python quindi possiamo distribuire il nostro programma in python più tutte le sue dipendenze all'interno di un contenitore e questo lo possiamo trasportare nell'informatica questo sta andando molto forte sia nello sviluppo nel senso che tutti sviluppiamo utilizzando le stesse versioni delle dipendenze no? quindi la stessa versione di python la stessa versione di go di node o di quegli altri programmi e linguaggi stiamo utilizzando ma anche in produzione quello stesso quello stesso contenitore che siamo atti a sviluppare possiamo prenderlo e portarlo in produzione pari pari com'è quindi se noi stiamo facendo una pagina statica con il nostro sito è overkill sicuramente potremmo distribuirlo insieme da nginx quindi partiamo da immagini di nginx mettiamo dentro i nostri file statici e lo portiamo tutti in produzione come gira bene qua girerà bene sicuramente di là questo è un esempio troppo semplice e quindi è sicuramente una mossa sconveniente però potrebbe aver senso già quando si sta parlando di di uno sviluppo php un esempio che faccio è come faccio a far girare php4 che non esiste più da un sacco di anni se scarichi l'immagine giusta questa qua tra l'altro deve funzionare davvero se faccio girare questa sicuramente dal registro e tiro giù questa versione di php4 e php-version darà 4 quindi una roba che non esiste da non so quanti anni l'idea è che avendo questi contenitori isolati l'uno dall'altro ho le dipendenze soddisfatte e posso facilmente trasportarle andiamo avanti a fare 4 smanettamenti ancora andiamo a cercare php4 bababia bababia facciamo docker pool di queste immagini qua sono tutti i livelli ogni ogni livello è un comando che è stato fatto per fare la video dell'immagine andiamo a vederli dopo comunque il concetto è abbastanza semplice i livelli ma mia non mi beckerò ma la fine serata ce la faccio a prendere possesso di questo computer i livelli ok i livelli quindi in questo esempio mi parte dal pin linux ci fa make dirvi qualcosa ci installa primo opengdk ci applica dentro ci mette dentro gli altri file e la composizione di questi livelli il merge di tutti questi viene fatto dal system di unione che ha un fs o quell'altro questi già tre erano planini quindi il concetto da sotto il cofano come funziona sotto il cofano cos'è che devi dirmi a fine serata qui la rete non ce lo consente e poi c'è tutti gli altri waiting qua però io prenderei già con un'altra immagine perché tanto ne ho per esempio ho scaricato questo che è un esempio che è google no gsl ma in realtà non so cosa faccia quindi vado su internet farà nell'oworld immagino quindi vado a cercare l'immagine qua visto che il docker search non è che da ste grandi opzioni vado a finire sull'hub di docker che è quello registri pubblico vado a leggere un po' ritmi va bene quindi è basato su google no gsl in time quindi questa immagine derivata da un'altra immagine e ascolta sulla porta 8080 per farla girare fai questo ma 8080 noi l'abbiamo già usata questo lo fermo tanto va bene allora lasciamola andare lasciamola andare intanto io ho perso un altro terminale ho perso un altro terminale andrò qua quindi così ma non l'8080 perché abbiamo già usato facciamo l'8081 non l'ha già scaricata prima ho fatto docker images e l'ha già giù vedi che è sopra qua questo è perché lui dice no questo non l'ha capito lui dice questo di solito quando è così devi prendere il comando di default il comando di default io potrei fare docker inspect che ti fa vedere com'è che è stata fatta questa immagine ho scritto inspect ok qui dentro ci dovrebbe essere cmd che è il comando di default che in questo caso però non è valutato rizzato strano cioè questo ritmi è sbagliato allora stai dicendo questo che google sbaglia non l'avrei mai detto vedi qui si fa vedere il docker file cioè il docker file è come è composta questa immagine che è partita da altre immagini ma sembra che non va dentro nient'altro quindi siamo siamo arrivati nel buco buco nero di internet probabilmente l'immagine che abbiamo scaricato prima la facciamo partire quindi facciamo run facciamo terminare interattivo e il comando che diamo è php meno meno version ok è ovviamente diversa dalla mia versione di php che ho installato sulla mia macchina quindi questa qui siamo sulla mia macchina qui siamo all'interno del container il tutto poi come può essere tenuto insieme il docker file cioè come facciamo un'immagine l'immagine si fa partendo da un'immagine già fatta quindi in questo caso io parto da php alla versione 7.2 con a bordo anche apaci dichiaro che sono il maintainer di questo pacchetto questi sono tutti i metadati che verranno impacchettati aggiungo il file index.php che c'è in questa directory all'interno del container nella varv html del container poi inizio visto che so che questa versione è basata su debian perché sono andato a leggere il docker file posso anche installarci qualcos'altro che serve al mio applicativo finto in questo caso installo voim anche se all'interno del container di solito non si trova niente cioè non è come un'installazione base di un qualsiasi distro non c'è praticamente nulla ci sono container dove immagini dove non c'è neanche la bash quindi c'è sh oppure a volte non c'è neanche quello quindi è il minimo indispensabile per far girare l'applicativo quindi faccio finta in questo caso di aver bisogno questo questo tool per il mio fantomatico applicativo e poi per fare una build faccio docker build faccio meno tag linux var slash mezz'ora docker punto ok ho fatto la build l'ho fatta un po' in fretta perché era già fatta in sostanza l'avevo già provata e quindi gli step che aveva già fatto li ha schippati però diciamo che ha eseguito tutti gli 8 gli step è partito da pkp 7 e 2 apaci che avevo già sulla macchina ha dichiarato maintainer ha aggiunto l'index eccetera eccetera l'index l'ha preso da questa direttori qua e quindi siamo andati a impacchettare un bellissimo tool che non fa altro che prendere stampare due cose in croce e fare girare vim almeno meno version questo scrippettino in pkp di tre righe di due righe che a questo punto se voglio far voglio passare a qualcuno non passerò l'index ma passerò tutta l'immagine di modo che la persona che lo riceve può anche fregarsene di che linguaggio scritto che dipendenza ha bisogno eccetera eccetera all'interno di docker images troverò a questo punto linux var mezz'ora docker che ho fatto la build adesso ha la versione non è taggata quindi la versione latest è di 425 mega perché probabilmente la versione prima era di 424 virgola qualcosa megabyte quindi si faccia docker run meno p 8082 verso l'80 di questo signore qua e basta parte a pace inizia a scrivere qualcosa in standard output e poi io vado a prendere questa l'8082 ok e vedo quello la seconda riga nel senso qui ho un file php che chiama vim perché l'ho dichiarato come dipendenza mi dice solamente in che versione fa vim e 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 vim questo perché voglio far vedere un'altra roba che all'interno di questo script io vado a prendere una variabile d'ambiente che posso valorizzare da docker stesso quindi faccio e mezz'ora uguale e ranna ok caricando questa variabile d'ambiente è stata passata all'interno dell'applicativo e l'applicativo lo sta utilizzando purtroppo bisogna lavorare un po' di immaginazione perché l'esempio è altamente stupido e quindi si parla di un file php che potrebbe essere tutto molto più semplice se passano queste tre righe di php a qualcun altro però facciamo finta immaginiamo che questo fosse un programma difficilissimo da compilare che ha bisogno di 60.000 dipendenze e io posso partire da una base quindi un'immagine fatta da un'altra persona oppure partire da un tar da un debootstrap ancora a modo più grezzo e impacchettare il tutto perché possa essere trasportato altrove e fatto funzionare là qua è tutto sto pippone perché in generale nel mondo del software se è difficile uno replicare altrove le cose cioè sul mio funziona è un po' classico sul mio funzionava e sul tuo non funziona non so cosa farci e questo parte dalla stessa posizione comune nel senso tutti quelli che fanno girare linux varm e zora docker utilizzeranno l'httpd all'esattamente quel binario quindi noi stiamo parlando di più o meno la stessa versione o la stessa versione ma stiamo parlando dello stesso binario lmd5 proprio identico e quindi puoi trasportare le cose in modo molto più semplice secondo avendo ambienti completamente isolati avendo ambienti completamente isolati che possono parlare tramite la rete è comodo costruire magari soprattutto via web applicativi a microservizi per esempio se abbiamo il nostro sito e-commerce potremmo avere il microservizio che si occupa del carrello l'altro microservizio che si occupa delle promozioni l'altro microservizio che si occupa del eccetera eccetera e ogni container può far girare quel singolo microservizio questo è un po' la tendenza negli ultimi anni dello sviluppo un'altra cosa che ti ha dato un po' anche l'esposizione di docker è che solitamente quando uno tira su dimenticandoci un secondo i container quando uno tira su una macchina nuova la deve configurare a mano fin quando una macchina va bene quando sono due inizia a sbuffare alla terza ti rompi le palle alla seicentesima inizia a essere ingestibile ok gestire far gestire tutte queste cose da docker è più comodo nel senso se io avesse a disposizione in questo momento un pc dall'altra parte del mondo con docker funzionante io sono sicuro che il mio applicativo funziona e quindi questo rende molto più semplice il trasportare trasportare e fare i setup perché a questo punto il setup vive all'interno del mio applicativo o dell'immagine stessa o di una concatenazione di immagini che questo è un po' il secondo step nel senso che esiste un tool che si chiama docker compose che fa praticamente una sorta di facciamo finta che è uno script che fa partire diversi di questi comandi qua però lo codifica in modo più elegante si vede nulla qua praticamente il terminale visualizza come si fa a metterli in bianco aspetto aspetto aspettate se tu opacità va potremmo già esserci dov'è colore usa un colore usa un colore quale colore colore del tab dopo che c'è colore è un'azione difficilissima ho usato ben quattro volte il mouse stasera ok in questo caso per esempio abbiamo tre servizi Apache MaincashD e Mail quindi uno che fa girare PHP con un mio applicativo l'altro che serve per fare cache in determinato modo e l'altro per spedire le mail che possono essere tre componenti che devono vivere insieme questo Docker Compose si occupa di tenere insieme tutti i tre pezzi evitando di scrivere uno script .bash che portiamo in giro quello che si faceva esattamente al giorno zero di quando è uscito Docker questo permette che io ti passo questo file e tu non fai più nemmeno di fare Docker Compose app lui va a leggere questo Docker Compose .yml e tira su tutti i container si occupa di scaricare le immagini che non ho e di far partire i container che sono necessari quindi fa tutto lui e questo è ancora comodo perché abbiamo codificato all'interno di un file tutto tutte le dipendenze abbiamo per esempio prima abbiamo usato meno p e questo lo possiamo codificare qui ports 8080 2.80 che vuol dire mappa l'8080 dell'host andiamo un secondo facciamo 8080 83 ok ristarto questo vuol dire quando quando muore farne partire un'altra abbiamo specificato un environment abbiamo portato i volumi nel senso si può portare una directory dell'host all'interno del container questo è utile per avere persistenza per poter permettere all'applicativo di scrivere qualcosa che poi permane però diciamo che è un discorso che si allunga un po' quindi lo abbandoniamo stasera quindi a questo punto se faccio docker compose app lo tirerà su all'8083 una patch che farà girare questo index .php sono due approcci diversi nella parte nel docker file ho fatto una build di un'immagine in questa immagine gli ho messo dentro il mio file php nel secondo approccio che è un po' da system container sto tirando su a patch e gli monto un volume sotto sono già due concetti da quattro stellette quindi 8083 abbiamo detto ok mi fa vedere amicizia che sarà no perché esatto esatto e questa la differenza è che in questo docker compose sto partendo dalla versione base che non ha vim all'interno e quindi questo non lo vedo ma sta fallendo perché è una dipendenza che non ho messo dentro riprendiamo un po' le slide domandi ok vai ad esempio gli snapshot che si fanno a chi l'acqua il concetto nei container è che tutto è effimero quindi tutto quello che fai che c'è all'interno di un container teoricamente lo puoi buttare via subito ok se ti passo nell'all word tu di questo l'all word non devi farci nulla cioè non devi backuparla ok esatto sei arrivato su un database però tipo se ti passo nell'all word siamo entrambi possiamo buttarvi a tutto no perché tanto quello che ci serve è già dentro nell'immagine ok per fare quello che è la persistenza quindi questi dati devono essere devono cioè l'applicativo in questo caso database tu hai detto devi scrivere i dati questi dati devono rimanere da qualche parte questo è un problema in generale ci può arrivare in questo momento solo con i volumi nel senso abbiamo detto prima che tu puoi montare un volume come ho fatto adesso un volume dell'host lo porti uno direttore dell'host definita come volume lo porti all'interno del container ok se parliamo di MySQL per fare un esempio che magari MySQL scrive i suoi file in varlib MySQL quindi noi potremmo portare questa directory la home gianni docker environment linux var amicizia quel che è la portiamo in varlib MySQL quando il container andrà a scrivere in varlib MySQL in realtà andrà a scrivere in una directory che sopravvive anche quando il container viene ammazzato o viene distrutto proviamo sul pratico allora docker images grep MySQL vediamo il container quando il container vuole anche il dato precedente se viene montato esternamente è un mount in sostanza cioè quello che succede sotto il cofano è mount meno bind quindi lo porta dentro facciamo un'altra cosa abbiamo detto docker meno compose app tiriamo su un container questi container qua che abbiamo visto prima docker ps mi fa vedere quali sono i container che stanno girando quindi mi posso riferire al primo container sia con l'id sia con il nome perché gli abbiamo dato un nome visto che secondo mi piace un po' di più io posso anche andare a debaggarlo quando si va a debaggare è sempre lì attenzione questa è una macchina virtuale il suo scopo non è eseguire una bash ma è eseguire apaci o httpd o quello che è quindi sempre a prendere quelle pinze il docker exec perché vuol dire proprio stiamo debaggando quindi qua dentro io posso eseguire una bash no ho incollato una roba che non ci entrava niente volevo incollare questo ok sono all'interno del container nella var www.html e all'interno facciamo finta che sono all'interno del mio applicativo il mio applicativo scriverà linux var punto txt esco dal container esco da un momento a debug in questo container qua e nella direttore dell'host questo file me lo trovo lo vedi perché perché all'interno del docker compose io ho dichiarato che il volume punto il volume è questo di questa direttori va in var www.html quindi ho dato persistenza alla cosa così come fare a quel punto snapshot dei dati backup dei dati non è un problema di docker è un problema che va affrontato in maniera classica come si è stato fatto fino adesso diciamo che il container come è fatto è fatto per essere buttato via mentre magari una snapshot di una macchina virtuale non solo è la fotografia del disco ma potrebbe essere anche la fotografia della ram in quel momento il processo si dà per buono che gli puoi sparare in testa quindi alcune cose tipicamente i database non sono cioè metterli in container non è il loro abitato naturale ci puoi farlo far girare in produzione non è il suo abitato migliore magari in the world ci sta molto più comodo perché sei sicuro che se gli spari in testa va bene uguale perché è sempre così chi fa un calcolo computazionale incredibile che ha bisogno di due numeri e va a cercare il numero primo probabilmente non ha bisogno magari di persistenza non lo so e là come dice andiamo fino alla qua che viene lunga docker compose abbiamo visto si possono usare anche variabili e tenere tutto fuori un altro file questi sono i comandi che si possono passare al docker compose che viene insieme il tutto ma alla fine si usano 4 up, down run, exec poco alto ok quindi si usano molti di meno questo è un esempio che ho fatto un po' di tempo fa che secondo me calza abbastanza nel io stavo compilando magic lantern che è un tool per un firmware alternativo per macchine fotografico pippone e mi rimbattuto in questa descrizione di come compilare sta roba e non finivi più diceva scarica questa macchina virtuale che è l'ubuntu 14 sciupa sciupa poi stai lì installarti un milione di dipendenze praticamente era impossibile installare e qui ho fatto il toolchain quindi sono partito da la versione 386 perché poi ci voleva la versione 386 non a 1064 di ubuntu ho aggiunto il repo ho dato questi comandi qua e il risultato di questo docker file se tu fai la build ancora oggi a distanza di anni ti da esattamente quello che serviva per compilare questo tool e questa cosa qua è stata poi distribuita perché essendo l'immagine è proprio pubblica nel nel docker hub quindi se vado a cercare docker search generan all'interno si trovano queste due queste due immagini che funzionano ancora quello che ho capito che non sono capace di usare ok l'orchestration invece è una roba da produzione abbastanza legata al mondo web nel senso questi container qua come faccio a portarle in produzione se ho 100 ambienti di 100 siti internet diversi che usano altrettanti 100 microservizi come faccio un po' a tenere insieme sta cosa la risposta è l'orchestration che sono c'è per al momento swarm che però va un po' nella titola obsolescenza kubernetes che sta spingendo forte che sono dei tool per orchestrare questo è un po' quello che si fa di lavoro chi fa il mio lavoro cioè mantenere degli host e i container vanno ovunque devi avere devi starli con la bacchetta magica a sapere dove vanno questi container dove nascono dove muoiono di che cosa hanno bisogno quindi questi container non sono più 3 container sulla nostra macchina ma magari sono 200 container su 10 macchine dove nascono dove muoiono non lo so sicuramente si parlano tra di loro tramite reti già la rete interna di docker che è già prevista come si parlano già nell'esempio nostro abbiamo fatto docker compose app qua forse è già su no non era su aspetto ho fatto un casotto se io faccio docker exec ti di questo riesco a scrivenderlo voglio vedere che posso parlare con il signor mail un affambagno cosa c'è non c'è niente ovviamente volevo vedere che da questo io da questo tizio posso parlare con questo tizio tramite rete riferendomi quel nome mail e con quest'altro tizio riferendomi il nome maincash perché internamente c'è un dns implementato c'è una serie di cose che sono innate di docker che non abbiamo detto stasera per non incasinare il tutto però nell'orchestration quando questi container vengono utilizzati su grande scala è necessario quindi un po' il discorso dei volumi o volume di rete che può essere utilizzato all'interno del container ma si dà per scontato che il container sia effimo effimero oppure bilanciamento esistono poi 5 stelline se non 6 o 7 possiamo aggiungerli in un paio questa è roba diciamo un po' un po' tosta e kubernets che è la stessa cosa ma ancora più difficile ancora più architettura cioè è una roba enorme cioè far partire un container nella propria sulla propria macchina abbastanza facile ovviamente pensarlo in grande scala migliaia se non non so google usa i container probabilmente a milioni quindi poi orchestrarli lì è un altro discorso quindi quello che è facile è la parte dello sviluppo nel senso utilizzarlo noi passarceli è comodo è facile invece è molto più difficile pensare di orchestrarli e avere delle macchine degli host fisici che il cui scopo è solamente ospitare questi container dargli vita sono un po' incasinato diciamo che no la parte la parte da qui in giù è diciamo molto di formazione professionale perché è quello che faccio nella vita fermiamoci prima a docker compose e docker file che faccio la build dell'immagine per poterla utilizzare passare amici compagni e tengo il docker user locker compose faccio questo file qua per tenere insieme più più container più immagini e dichiarare i parametri con cui fa partire docker io mi sarei mi direi di chi fermarci qua perché mi è messo in una svalanga di roba fatemi qualche domanda se no vuol dire che ho spiegato male ma a me è chiaro sono proprio bene eh quindi gli ostri i docker sono sempre fisici? no no sono ci attualizzati? certo anzi a quel punto lì tu hai bisogno del kernel poi dove risieda il kernel non ti interessa per esempio una manovra che si fa da una gestione diciamo classica la macchina virtuale a supponendo che tu il ferro ce l'hai ugualmente e non vuoi andare in situazione cloud o VM gestita da qualcun altro di solito hai la tua macchina virtuale prima dove mettevi su VMWare o SX o qualcos'altro e là sopra ci vedi le macchine virtuali a quel punto quando devi aggiornare devi aggiornare la singola macchina aggiorni la singola macchina se devi aggiornare invece l'hypervisor aggiorni tutto ecc ecc e qui è destinato facciamo che è una macchina che ha 1 giga di ram se ogni tua singola ogni singola macchina virtuale ti necessita 100 megabyte di di ram puoi farne più o meno 10 e poi tutto il resto è un po' come si dice in overbooking no tipo gli aerei questa cosa secondo me è molto meglio farla adesso in docker nel senso se tu hai il tuo host nel tuo host ci metti una linux qualsiasi e ci fai partire docker la sopra ci fai andare una svalangata di microcontainer quindi container piccolini che fanno un'operazione minima e quindi hai la facilità nel deployare perché tu prendi queste immagini la porti di là e la fai partire se devi cambiare tutto dall'oggi al domani non è necessario cambiare il docker che c'è sotto semplicemente svuoti tutti i container che stanno girando e li mettete gli altri questa è un po' una delle mosse che si fa però si l'unico requirement è avere un kernel nuovo e il docker che c'è cosa vuol dire anche se se si può spiegare questa cosa dentro anche ambienti grafici pensandola sul desktop viene già un po' viene già un po' un po' bene a pensarci nel senso che comunque non si presta non si presta però per esempio a me che non piace installare un milione di dipendenze in generale nella distro e quando vai a installare un binario tipo skype si tira dentro l'universo e ancora qualcosina in più a me piace fare il container con dentro skype e far girare quello quindi dentro di lui ci sarà porcheria nel momento in cui il cancione adesso gli altri image di come si chiama tutte le parti snap e di container di questo la stessa cosa adesso si complimenti ma in ambiente c'è un esempio in web che distribuisce 6x in cui termine la distribuzione ecco cioè tu dici che installo qualcosa sulla macchina fisica e già parte tutto allora sì allora per noi che siamo già linux nativi diciamo non esiste cioè esiste ma per utilizzarla in grande scala come le ultime slide quindi esiste per esempio CoreOS ma non è semplice cioè è già fatta per utilizzarla in produzione in grande scala ok esiste la possibilità cioè se uno ha per un utente linux basta installare una qualsiasi versione di docker e funziona poi difficilmente si avranno si avranno la necessità di avere una versione nuovissima si sta iniziando soprattutto perché da un paio di anni a questa parte le innovazioni che ci sono sono per portare in produzione per cioè non sono per un utilizzo didattico quindi non trovi grandi differenze quindi basta che hai un kernel recente installi qualsiasi versione di docker e vieni giù e sia a posto quindi quei requerimenti lì lo puoi soddisfare in qualsiasi modo non esiste esistono poi magari dei container che ti fanno vedere graficamente qual è l'utilizzo dei container stessi però è tutto un mondo dove ti sposta un po' da cioè devi capire bene questo e secondo me devi capirlo bene qua poi esiste un altro progetto che è moby cioè è lo stesso è docker stesso che si occupa anche di di far funzionare questa cosa su windows e su sx come funziona questo fanno delle macchine virtuali vere che girano su hyperv per partire windows e xive per sx che sono le due virtualizzazioni native fanno partire un kernel linux 100% virtualizzazione classica e sopra hanno già a bordo docker ok questo rientra nel progetto linux kit che è un progetto sempre di docker per mantenere delle vm minimali che fanno partire un binario solo questo si chiama unicernel se non sbaglio e loro fanno questo sistema per mantenere una distribuzione che fa partire docker d e basta e questo è comodo perché praticamente anche con i colleghi che hanno windows che hanno sx possono far girare esattamente gli stessi gli stessi binari con le stesse immagini loro la differenza grossa è che mentre io ho dato prima un ps e ho visto ingenix che stava girando sotto loro non lo vedranno perché questo ovviamente sta girando all'interno di una macchina virtuale vera e quindi è isolato dovrebbe entrare nella macchina virtuale cosa che si può fare dare il ps e a quel punto vediamo il processo siamo come praticamente dentro a una macchina linux normale che si può fare